Cambiamenti Lo seguimo Luca Sieni, sieni Su, su, su Su Ok, le mani Allora, facciamo così Ok Allora, allora, le mani su Se fa un salto a destra Sinistra A destra Y a destra si ricopincha Cambio Cambio Ok, organiziamoci, organiziamoci Iniziamo tutti i dati Con la gamba sinistra Avanti Avanti Andiamo tutti a destra A Adesso ricorda Allora, giratevi i suoi bracci A Vedete Sesia Signorati e signores Con il papo della palla e seguita Baglio del cucino Allora, giratevi i suoi bracci E' un po' di O' di I' un po' di A A A A A A A A Siamo nella, ce la facciamo? Allora, sinistra avanti, sinistra avanti, sinistra avanti, ma adesso si va a letta, a A e si gira, a A e iniziamo, ok, bene, si gira, allora ragazzi, il confezio perché stai insieme a lei, taglio e cucina, alla, a te bomba, a te bomba, a te bomba, a te bomba, iniziamo, a te bomba, ok, bene, e lui Arev 진 об certo signorsi e sigue vengono, ok, si salga avanti quella. di qua, e in avanti, e l'altro collegato aperte, aperte, più aperte, forza lì, va qua, cambia, 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 ok organizziamoci, organizziamoci, e iniziamo con la gamba a destra, che fa avanti, avanti, dietro, avanti, avanti, e qui noce, 1,2,5, 2,5, 1,2,5, 1,2,5, 1,2,5, 1,2,5, 2,5, 1,2,5, 1,2,5, 1,2,5, 1,2,5, 1,2,5. yes 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 e allora non lo finiamo in italiano eh sii ok tutti preso le mani 60 e davanti con il più forte 2 Allora, facciamo un applauso ai papi natali, adesso c'è la compagnia, e noi vabbiamo con la salsa!